Nelle intenzioni del governo c'è l'abolizione totale, ma prima si capirà se l'amputazione era lecita o meno. La Corte Costituzionale in queste ore discuterà dell'accorpamento delle province deciso dall'ex ministro della Funzione Pubblica, attuale sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi. Il decreto del governo Monti fu impugnato da otto regioni, ma non dalla Puglia. Contraria al colpo di mannaia, chi abolì, rivisitò e accorpò le province italiane. Quel provvedimento non andò affatto giù tanto da ricorrere alla consulta pur di salvare quegli enti che in realtà ormai da più parti si vuole del tutto abolire. Davanti ai giudici della Corte Costituzionale saranno due le obizioni da discutere. Innanzitutto l'articolo del decreto Salva Italia con il quale si sono modificate governance e competenza delle province. E la seconda questione è il metodo, perché secondo le regioni che hanno presentato ricorso la modifica del titolo quinto della Costituzione non poteva essere fatta con un semplice decreto che stabiliva nuovi criteri minimi di sopravvivenza delle province stesse. In base al decreto Salva Italia, le regioni a statuto ordinario dovevano passare da 86 province a 51. Anche in Puglia gli equilibri dovevano cambiare. Prindisi e Taranto dovevano accorparsi per generare una sola unica provincia, mentre Lecce doveva rimanere intatta. I consigli sarebbero stati sfoltiti ed eletti indirettamente le competenze quasi azzerate. La riforma così concepita non piacque davvero a nessuno. Il tutto comunque fu poi congelato. Si decise di aspettare la fine del 2013. La Corte Costituzionale dovrebbe decidere entro luglio. Se dovesse dare ragione al governo Monti l'accorpamento potrebbe ripartire e quindi i presidenti e i consigli provinciali dovrebbero soltanto contare i giorni che mancano alla fine del loro mandato. Se dovesse invece essere definito incostituzionale si avrebbe più tempo per mettere a punto quell'ormai improcrastinabile riforma degli enti che ora tutti i partiti pretendono. Le province vanno abolite secondo tutti perché è lì che si annidano gli sprechi. Il governo Letta ha fatto la sua proposta che proprio dal Salento si è elevata in tempi non sospetti e su questo ora sta lavorando l'esecutivo grazie al tour per i territori cominciato proprio dal Salento dal sottosegretario alle affari costituzionali Walter Ferrazza.